Facciamo il focus su startup e PMI in Italia. Ben volentieri, la prima cosa da evitare è confondere le startup con le PMI. Le startup non sono in realtà delle PMI, sono delle piccole imprese che devono diventare grandi. Questo non vuol dire che però non ci debba essere un rapporto, anzi, le PMI possono essere per le startup sicuramente un mercato per iniziare a crescere, magari uno inizia a fare il suo primo mezzo milione di fatturato e poi va all'estero, ma soprattutto le PMI italiane possono essere delle ottime fornitrici di tecnologie. Come il mondo imprenditoriale straniero vede l'Italia? Lo guarda con grandissima attenzione, lo guarda sapendo che gli italiani hanno una capacità imprenditoriale notevole, sanno che esistono delle competenze industriali e tecnico-scientifiche molto alte, ma soprattutto a un costo molto ragionevole. È chiaro che vedono ancora un po' il sistema paese come un po' a rischio, ma comunque in fase di trasformazione molto rapida. Posso dire che iniziamo a sperimentare all'incubatore del Politecnico un notevole interesse da parte di startup straniere che vengono a impiantare in Italia le loro figliali per fare o sviluppo o addirittura commercializzazione dei loro prodotti. Quindi vuol dire che ci vedono bene. Grazie. Grazie. Grazie.